signor miracle benvenuto grazie ma facciamo in fretta non ho molto tempo da perdere abbiamo chiamata per un semplice motivo lei ha portato i bulls alla vittoria e ha fatto rinascere una franchigia sì certo e quindi la vogliamo a toronto a toronto e perché dai bulls dovrei venire a toronto assolutamente no mi dispiace siamo disposti a pagarla il doppio dei bulls no il triplo no ok entra pure entra chi e ale come stai bello la mario ma che cazzo e non solo signor miracle abbiamo anche preso di rose state scherzando no abbiamo preso anche il suo amico non è possibile cioè avete comprato tutti i miei amici per farmi venire qui a toronto questa è una sorta di corruzione che come ve la state giocando non è finita qui abbiamo anche preso hernan gomez sai bocruz di astol e va bene cioè firmo ok ma come ce la giochiamo io firmo dai free agent ma se siamo io di rosa c'è anche van vlitt no no non si preoccupi van vlitt andrà ai bulls a quando iniziamo presto molto presto molto presto